27 aprile 1945. A Musso, non lontano da Dongo, Benito Mussolini, nascosto su un camion militare di una colonna tedesca in ritirata, viene riconosciuto e arrestato insieme all'amante Claretta Petacci. Travestito da nazista, Mussolini stava cercando di raggiungere la frontiera per riparare in Svizzera o in Germania. A riconoscerlo sono due partigiani, Urbano Lazzari e Pier Bellini delle stelle.